In via Capruzzi, come preannunciato, la fumata nera. Qualche chilometro più in là, in via Gentile, i due presidenti sbrigavano le formalità di rito per il passaggio del testimone. Il periodo di interregno della regione Puglia è caratterizzato da un clima di attesa. L'ufficio di presidenza decide di attendere che sia il TAR, eventualmente interpellato dai consiglieri esclusi, a dire se il pasticcio della legge elettorale approvata in un modo e pubblicato in un altro produrrà uno scossone, togliendo lo scranno già assegnato a quattro consiglieri oppure no. Intanto i presidenti, come i due papi, scherzano loro stessi, si dividono tra riunioni private, durate un'oretta, prima da soli, poi con le parti sociali, tour nella regione per la presentazione a dipendenti e funzionari e conferenze stampa per la consegna dei primi 190 defibrillatori che nel Salento sono andati ai comuni di San Pietro Vernotico, Ostuni, Castellaneta, Lizzano, Nartò e Martano. Lui è il papeletto, io sono il papemerito, scherza Nichi Vendola. Questo vicendamento vorrei non finisse mai, replica Michele Emiliano. È lì ad ipotizzare, ma sempre scherzando, un posto al governo per il presidente uscente. Stiamo solo scherzando, si affrettano a dire. Diciamoci la verità, è sempre stata una coppia formidabile questa, 10 anni a questa parte. È stato molto bello, diciamo, davanti a quella platea di attori sociali fondamentali, passare il testimone a Michele Emiliano perché lui possa assolvere a un compito importante, non solo quello di governare la Puglia, ma di portare avanti le istanze del sud d'Italia. La regione è un treno che corre, sul quale io sono salito alla stazione di competenza. Devo svolgere il mio ruolo, né più né meno, dice Emiliano. E quanto invece al ruolo della Giunta, l'ex sindaco di Bari è chiaro, non avrà la centralità dell'era Vendola. Sarà il consiglio regionale ad averla. La questione della Giunta non sarà così centrale come probabilmente è stata in passato e noi ci sforzeremo per tenere unito il Consiglio all'esecutivo secondo la gerarchia prevista dallo statuto, che è inversa. Cioè la sovranità popolare si esprime nel Consiglio. Noi siamo semplicemente, parlo della Giunta, coloro che devono portare ad esecuzione le visioni e le leggi approvate dal Consiglio. Dunque nessun appetito è il messaggio criptato perché chi sarà nell'esecutivo non avrà più poteri di chi è in Consiglio. E questo conferma quanto i beninformati sostengono, e cioè che la vera partita Emiliano la giocherà con i superdirigenti.